Buonasera amici vi do un caloroso benvenuto a striscia la notizia pelusciosa io mi chiamo Ezio Drago e sono oggi il conduttore di stasera e con me signori c'è Gerrico Alascotti Gerrico Alascotti ma che ci fa quassù devo adesso tuffarmi qua che io devo fare come ti posso dire un tuffo no non lo farlo Gerri e allora signori buonasera che dolore Gerrico Alascotti ma che diamine ti è venuto in mente di fare una cosa del genere nel nostro studio Ezio Drago mi chiedo scusa fammi aggiustare la tavola devo togliermi sto coso di mezzo beh ci mettiamo ai propri posti eccoci qua allora innanzitutto cominciamo subito che il nostro Kermit Rana ci dà delle notizie riguardo una fotocamera vediamo subito ciao a tutti amici di striscia io sono la Kermit dei Muppet oggi andiamo a fare un'intervista di come funziona una macchina fotografica seguitemi come funziona secondo voi una fotocamera voi vi spiego il motivo prendete dalle vostre estremità la vostra fotocamera e mettete qui dentro premendo il tastino trasparente guarda cosa succede cambia la vostra fotografia e se l'obiettivo è finto almeno non fa niente perché questa è una fotocamera giocattolo delle tartarughe ninja e soprattutto venite ci stanno altri rompi capita da quei posso dirlo usare come questo che è un croci puzzle che bisogna riassembrare i numeri e di com'è così e ho finito il croci puzzle e questo oggetto è uno semplice squalo vedi cosa fa se io premo qui ci morde dobbiamo stare attenzione beh alla linea Kermit Frog a voi studio bravo Kermit la rana hai sentito Gerico Alascotti la fotocamera si usa così almeno vado a prendere va bene la vado a prendere subito ecco qui la fotocamera wow non ci credo è bellissima ma soprattutto è costosa ma fammi vedere come funziona mmm veramente meravigliosa provala tu Ezio Greggio Drago va bene allora ragazzi il nostro l'uomo ragno Spiderman oggi dovrà salvare una rana intrappolata da un peperoncino vediamo cari amici di striscia sono io l'uomo ragno oggi io devo andare a salvare delle rane che sono intrappolate da un mostro peperoncino andiamo aiutami aiutami non ti preoccupare ti salvo io super nagnatela ecco ti qua ti ho preso grazie infinite Spiderman ah riportami dentro certo e ora vediamo se troviamo altre rane aiuto Spiderman aiuto sono intrappolato dal peperoncino no non ti preoccupare ti salvo io grazie infinite Spiderman credo di sicuro che devo trovare l'ultima rana oh no grazie Spiderman allora ragazzi il totale che ho salvato le rane sono una due e tre tre rane alla linea l'uomo ragno a voi studio ma per la madonna ma quante rane è riuscito a salvare beh non perdiamo importanza adesso passiamo col nostro capitano Bassotto che dovrà trovare qualche tesoro non lo so e lo dovrà portare nel nostro studio capitano Bassotto buonasera strescia la notizia e benvenuti in questo mistero della caccia tesoro il mio nome è capitano Bassotto e io devo andare a trovare un tesoro forza venite con me oggi andiamo a trovare la scarpa misteriosa andiamo a chiedere a nonni Cane se ha visto la scarpa misteriosa tu hai visto la scarpa misteriosa? no mi dispiace non l'ho vista io tu hai visto la scarpa misteriosa? no mi dispiace non l'ho vista io e tu hai vista la scarpa? si l'ho vista sta dietro il popò di scuola scotti vado subito capitano Bassotto cosa ci fa nel nostro studio? guarda attentamente dietro di te ma è questo il tesoro? ok tienilo pure grazie ora ve lo porto nel nostro studio tienilo grazie infinite grazie infinite e allora ragazzi dal vostro capitano Bassotto a voi studio ma è proprio bello lo stivalonzolo che ci ha dato è una scarpa del reale a Madrid fammi vedere a me no è una scarpa dove c'è raffigurato il luogo del Barcellona bene ragazzi diamo la linea dal nostro Crash Bandicoot che non so cosa ci racconta di bello linea di Crash Bandicoot Octivision presenta Crash in striscia la notizia ciao a tutti ragazzi come va? spero che stiate oggi bene io sono Crash Bandicoot e oggi andiamo a fare tantissime belle missioni importanti con la nostra Crash Mobile si parte ragazzi e ci siamo arrivati e oggi andiamo a scoprire perché il gioco di scopa è grande nel mondo della Cina nel 2019 i cinesi hanno chiesto di creare le carte giganti e ora vi farò vederne una aspetta che mo la prendo la carta gigante e l'ho presa ad esempio come questa qui con nove cuori ci si può mettere di sopra e facendo l'angelo delle carte come se sia inverno chirterno almeno allora amici questo è tutto come vedere le carte giganti e la vostra linea da Crash Bandicoot a voi studio beh ma quando è gigante sta carta e certo gigante non può essere un 5 metri almeno non lo so e zio drago guardalo almeno tu non ci credo beh adesso passiamo con i nuovi mostri mamma mia quando è i nuovi mostri al quinto posto ci troviamo in una pista go kart dove questo tucano si vuole farci un giro sul go kart 3 2 1 via ma che cosa succede? che hai intenzione di fare? ma il kart si è ingastrato almeno tucano vatti a fare di qua la corsa rulla questo kart è proprio capoccione e si è arrabbiato al quarto posto stiamo in un'intervista di studio con Kermit Rana e Axterix di Axterix Obelix il nostro amico Kermit Rana si è ingastrato su una tromba ma Axterix l'ha liberato aiuto aiutatemi non ti preoccupare ti salvo io ma bravo Axterix come cavolo hai imparato ste mosse beh al posto che si chiama Axterix si chiama Johnny Axterix bravo al terzo posto ci troviamo in una battaglia come Super Smash Bros dove questa tartaruga deve affrontare un pappagallo che vince secondo te? ma il pappagallo è scivolato quindi ha vinto la tartaruga al secondo posto ci troviamo con questo filmato di un pinguino che si deve mangiare il peperoncino piccante che in cui è il nemico dell'uomo ragno vediamo che reazione farà ma che ha fatto? ha colpito la videocamera beh un pinguino non sarebbe il raggio spaziale al primo posto ci troviamo con il filmato di Crash Bandicoot che dovrà riparare la sua Crash Mobile ma indovina dove la dovrà riparare nel nostro studio ma Crash dovrà riparare dal meccanico almeno il meccanico è chiuso quindi la riparo nel nostro studio ok ok quindi ragazzi io vado bene ragazzi la puntata si termina qui adesso sigla finale e grazie per averci seguito in questa puntata ciao a tutti sbio l'onda profonda qui si vegliete che bello i pesci stare a guardare che vara onda gioconda peper e peper e mi scelgo ma che sta a suonare se viaggiungo con te scambiorate con me la sera la piena feco che inizia il gran galà che in festa la festa con se vi scambi salgancià